se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi dei completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bentornati regà qua è savix che vi parla con un altro outfit ragazzi, rivisitazione dei tasconi però a tema halloween quindi ragazzi il completo si presenterà così più o meno ditemi cosa ne pensate nei commenti se vi piace fatelo, se no schippate il video quindi regà requisiti per fare questo outfit dobbiamo aver fatto almeno caio perico non mi ricordo in che modalità, perdonatemi comunque sia penso nella modalità normale basta fare il caio perico almeno una volta e andare a indossarci il completo corazza selvaggia di caio perico ragazzi scegliete voi i colori e tipo di tasconi che volete poi portare sul vostro outfit io alla fine sono andato a scegliere il coordinatore ragazzi che secondo me con quello che volevo fare ci stava un po' meglio con i colori quindi una volta che vi siete scelti tipo di tasconi non vi resta altro che andarvi a salvare il completo in un qualsiasi slot è indifferente dove lo salvate poi ragazzi una volta che abbiamo salvato il completo in un qualsiasi slot non ci resta altro come al solito di andarci a mettere la tuta da scienziato pazzo una volta che vi siete indossati la tuta ragazzi come al solito ci dirigiamo dal cannocchiale io userò quello della spiaggia corriamo, schiacciamo un freccio a destra teniamo premuto il minuto in azione touchpad se giocate la play e andiamo a indossarci il completo che stiamo facendo quindi quando ci allontaneremo avremo la maschera buggata a questo punto ragazzi andiamo come al solito a salvare l'outfit e una volta che avremo raga salvato il completo non ci resta altro che avviare il titano quindi start online, avviattività create da rockstar, missioni, un lavoro da titano e quando saremo dentro dovremo tranquillamente avviare l'attività come al solito dovremo andare da Los Santos Custom ragazzi e salvare il completo così com'è capiamo che sta andando tutto bene se in testa non abbiamo niente non abbiamo né la maschera e né il cappello a questo punto una volta che abbiamo salvato l'outfit raga semplicemente dobbiamo quittare l'attività come sempre e raga a questo punto avremo fatto il completo perché adesso basta andare a cambiare la parte superiore o la parte inferiore e si praticamente emergeranno le maglie e i loghi verranno sopra ai tasconi ragazzi è veramente una bomba quindi se volete fargli un outfit a cazzi vostri voi lo potete fare raga se no se volete fare un outfit stile Halloween come l'ho fatto io possiamo partire con i miei componenti ragazzi alla fine raga io sono finito sulle giacche comode sono andato a mettere questa qua nera raga perché siccome siamo a Halloween ho detto mettiamo la giacchetta nera andiamo a metterci poi dei pantaloncini arancioni e vediamo come viene quindi una volta messa la maglia che avevamo già qua da Monation ci spostiamo direttamente in un negozio di outfit qualsiasi per andare a mettere la parte bassa quindi io sono andato nella categoria pantaloncini e ho messo i cargo arancioni ragazzi che secondo me si sposavano bene poi sono andato a scegliere un paio di stivali e ho scelto quelli stile caffè che avevo già proposto con l'outfit che vi ho portato ieri ragazzi a questo punto sono andato a mettermi anche i guanti soliti in pelle dopodiché raga ho salvato l'outfit e adesso possiamo vedere che cosa metterci in testa allora raga io ho sbloccato la maschera quella nuova con le corna del diavolo e ho visto che ci sta veramente bene con questo tipo di outfit quindi vi lascio a voi scegliere se volete lasciare questa maschera e mergiarla con qualche cappello strano oppure volete mettere la zucca di Halloween che avete sbloccato visto che vi siete sbattuti a prendere quelle 10 zucche del cavolo e niente ragazzi questo è il completo lasciate un like se vi è piaciuto il video commentate condividete supportate Xavix iscrivetevi in tutti i miei gruppi telegram e sbada bam alla prossima grazie a tutti i miei gruppi telegram